prendono confidenza con la moto, imparano tecniche e segreti delle due ruote ma aspetto ancora più importante stanno assieme, stringono amicizie e recepiscono quanto fondamentale sia il rispetto delle regole il Motor Campus di Lastreghe, organizzato dall'associazione Just Ride fondata da Matteo Botteon, pilota professionista del Team Dabut si sta dimostrando un successo nel pieno rispetto delle normative anticontagio una quindicina di bambini a settimana si divertono tra giochi, simpatiche lezioni e molta pratica naturalmente, in totale sicurezza molti collaboratori che aiutano il Pontalpino Botteona ad organizzare le giornate e il risultato finale è assicurato è stata dura perché adesso, dopo che c'è stata questa crisi di due mesi comunque abbiamo dovuto aggiornarci anche noi per fare tutte le cose in sicurezza pensavamo venissero molti meno bambini però in realtà la domanda è stata grandissima e siamo molto felici noi tutti animatori la moto dunque diventa non più un mezzo pericoloso agli occhi dei bambini ma una passione a cui è impossibile rinunciare per loro è libertà, credo come me c'è chi è nuovo che viene, noleggia la moto comunque e prova per la prima volta questa emozione da molti anni a questa parte è diventata una disciplina molto tecnica quindi noi vogliamo trasmettere la moto come una passione intanto, libertà e poi fare in modo che loro crescano in sicurezza non che prendano una moto e vadano a farsi anche male Giugno si è chiuso in bellezza con il sold out delle partecipazioni così come full è la prima settimana di luglio restano invece ancora 5 posti liberi per la seconda settimana del campus a luglio dal 27 al 31 e diverse disponibilità nelle settimane di agosto dal 3 al 7 e dal 24 al 28 per informazioni è possibile contattare l'associazione al 344 1733 579